Serata importante per Riva Ligure, il premio Riva Ligure questa sera, la cittadinanza onoraria alla FIDAL, l'ottenimento della bandiera azzurra. Sì, tante cose messe insieme, legate da un'unica cosa, una grande comunità, una grande comunità che si ritrova a far festa nel giorno del suo santo patrono e che festeggia le proprie identità che più la caratterizzano, che festeggia le proprie scuole, i propri giovani, che festeggia i comuni di Dolceacqua e Monaco per il loro prossimo gemellaggio e che conferirà la cittadinanza onoraria alla Fondazione Italiana Atletica Leggera. È davvero un momento di incontro importante, sono felice di avere una piazza così piena e sinonimo di vitalità di una comunità che non si è mai fermata e non si è mai arresa. Per la FIDAL verrà Maurizio Damilano, un atleta olimpico, campione a Mosca, insomma che emozione si prova ad avere a che fare con un atleta di questa caratura? Dico sempre che Riva Ligure è avanti, vuol dire che andiamo di corsa, benvenga la presenza del campione olimpico e due volte campione del mondo Maurizio Damilano è sicuramente prestigiosa per il nostro comune poterlo ospitare e sarà un'emozione grande ricevere dalle sue mani la bandiera azzurra. La bandiera azzurra che è stato un progetto portato avanti dalla nostra consigliera più giovane Valeria Brignolo e che questa sera vedrà il suo compimento per poi domani mattina proseguire con una passeggiata dedicata al benessere delle persone. Che cos'è la bandiera azzurra e quali valori trasmette? La bandiera azzurra intanto è un riconoscimento che FIDA, la Federazione Italiana di Atletica Leggera e ANCI, l'Associazione Italiana dei Comuni Italiani dà a quei comuni che operano perché lo sport entri a livello sociale, quindi con l'attività dei cittadini per un miglioramento di quelli che sono gli aspetti della salute, del benessere, dell'inclusione sociale gli aspetti che legano anche la sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile perché chi impara ad andare a piedi si muove più facilmente senza utilizzare mezzi e soprattutto è il segno di un'attività che viene svolta a livello dei comuni assegnatari della bandiera azzurra proprio anche per creare strutture e situazioni. Qui c'è una bellissima pista ciclabile che permette, pedonale anche chiaramente, che permette di svolgere attività fisica, attività sportiva ai cittadini e questo è un elemento assolutamente importante perché permette veramente di far crescere quella che è la voglia, l'impegno e soprattutto la sensibilità rispetto ai tutti i benefici che l'esercizio fisico, lo sport, l'attività fisica riesce a trasmettere. Poi domani l'inaugurazione di un percorso che è stato certificato dalla FIDAL, un percorso di due chilometri, ha già avuto modo di vederlo? Sì, l'ho già visto e domani lo inaugureremo. È un percorso che fa parte proprio del progetto Bandiera Azzurra all'interno di quello che è il capitolato del Bando Bandiera Azzurra vi è proprio la richiesta di realizzare almeno un percorso cittadino per permettere alla popolazione di poter avere un luogo sicuro e protetto dove poter fare movimento e chiaramente parlando di atletica leggera visto che è la federazione ad assegnarla in modo particolare legati al mondo della corsa e del cammino. Azzurra